Grazie a tutti i risultati del studente di VIAS, che avevano l'obiettivo di evaluare l'impacto della poluzione, in particolare del PM2.5 e NO2 sulla salute delle residenze italiane. Iniziamo dalla mappa di concentrazione, che si è fatto da ENEA a parte del Ministro dell'Environmento, e avevamo la mini-mappa, i risultati mini-modelli. E avevamo la concentrazione, su un livello nazionale, in una grida di 4 km. E i risultati del progetto dicono che quasi 20% degli italiani vivono in un'area dove la concentrazione del PM10 avvicinano il valore europeo, 25 microgrammi per m3 nel PM10. E in particolare, i risultati del nord hanno la più grande esposizione, e i risultati che vivono in una città, uno dei due, 54% dei risultati che vivono in un'area urbana, avvicinano il valore che l'EU ha detto come standard. E solo 20% degli italiani vivono in un'area dove la concentrazione è sotto i limiti di 10 microgrammi per m3, del PM2.5, che dice che il WHO è un livello sicuro per la nostra salute. I risultati del progetto sono stati di circa 35.000 morti attributati al PM2.5 E ogni anno, per ogni italiano, abbiamo observato una riduzione della esperienza di vita di circa 10 mesi. 14 mesi per le persone che vivono nel nord della nostra nazione. e per l'EU2, abbiamo estimato un impatto ovvero di 23.000 morti. Queste morti sono attributabili ai pollutanti. Quindi, se riduciamo il livello della concentrazione, potremmo non avere un numero così alto di morti. Che possiamo fare per migliorare la nostra salute? Per prima, per ridurre l'emissione e la concentrazione. Perché il PM2.5 e il NO2 viene principalmente dal traffico, dal traffico urbano. Quindi, ridurre l'emissione significa ridurre il numero di carti che circolano nelle nostre città. e anche per ridurre il numero di emissioni di diesel. In questa città. E anche per promuovere un'alternativa mobilità, che significa camminare, usare la bicicletta, usare la transportazione pubblica. E, finalmente, migliorare il verde. perché il verde potrebbe avere un effetto beneficio sulla nostra salute. Perché si scappano i pollutanti, ridurano loro dall'atmosfera. E, finalmente, voglio stressare, che, sì, abbiamo il traffico, ma abbiamo anche, durante l'interno, il problema di combustione di biomasse, il combustione di combustione, che significa la città civile, perché dovremmo controllare le emissioni. Perché il PM10, in Po Valley, durante l'interno, viene sia dal traffico e dal combustione di biomasse. in Po Valley.